Ciao palestrieri genovesi, bentornati dal Doge, allora oggi parliamo di Udinese Genoa sperando che il telefono regga in tutti i sensi allora oggi siamo qui per parlare della partita di domenica terminata 2 a 2 allora comincio col dire che questa squadra secondo me ha tanto potenziale da mostrare e di questo ne sono più o meno contento anzi no, ne sono contento la cosa che vorrei che fosse chiara è che c'è tanto lavoro da fare perché comunque questa squadra può mostrare il potenziale che secondo me ma secondo penso tantissime persone ha ma in questo momento fa tanta fatica in tanti aspetti prima cosa ci facciamo prendere troppo dal nervosismo e non osiamo questa squadra in tante occasioni io già ne ho in mente due ma probabilmente anche a Lecce per esempio abbiamo visto un Genoa che neanche nei 30 minuti in 11 contro 11 ha provato a osare e si è chiuso ma lo stesso discorso vale più o meno per Torino Genoa per Udinese Genoa e per tante altre partite che abbiamo visto in questi mesi insomma siamo una squadra che ha bisogno ancora di lavorare e dobbiamo imparare a tenere i risultati dobbiamo imparare a non farci prendere dal nervosismo e a osare di più in difesa secondo me siamo ben organizzati però però spesso e volentieri non serve chiudersi neanche con una difesa così tu tra l'altro l'attacco mi pare che ce l'abbia e neanche così scarso come eravamo appunto abituati che cosa è successo non mi si vede ok bisognerebbe osare di più adesso col Milan io non so se ci sarà o non ci sarà Reteghi va bene lo stesso insomma l'importante cioè va bene lo stesso no è chiaro che si tira un sospiro di sollievo perché nel senso sembra con tanto di grattata non una roba grave tant'è che sembrerebbe anche cioè comunque meglio contro il Milan che insomma contro la Salernitana il Verona capite? capite allora io sulla partita penso che la squadra comunque abbia anche avuto troppo poco tempo per prepararsi anche l'Udinese la differenza è che l'Udinese ha avuto un giorno e mezzo in più sostanziale e veramente in queste partite è tanto fa tanto un giorno e mezzo in più gli ultimi 20 minuti eravamo morti distrutti e quello posso assolutamente capirlo la cosa che non mi è piaciuta è che la squadra dopo il gol dello 0-1 e nel secondo tempo non abbia usato ora gli ultimi 20 minuti posso posso capire oltretutto c'eri anche andato vicino a chiuderla con Messias peccato davvero peccato 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 perché la potevi chiudere però comunque va bene cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo pieno la squadra però nei restanti 20 25 minuti si non ha saputo mostrare mostrare pericoli particolari nell'area di rigore dell'Udinese mi sono scordato cosa volevo dire questo questo ha fatto tanto scusate mi sono incantato e questo ha fatto tanto ecco e non va bene non va bene si continua a spegnere il suo telefono adesso lo vado a mettere in carica video più brutto mai visto no scherzo dai abbastanza decente spero credo che comunque questa squadra ci sia con la testa e vorrei sottolineare che 8 punti lo metto per iscritto 8 punti scrivo di merda scrivo letteralmente di merda 8 punti in 7 partite sono tanta roba con considerando che tu avevi un calendario da seconda guerra mondiale cioè ti sei saltato in modo sei uscito da questo calvario da questo non so potremmo chiamarlo è stato un calendario assurdo io avrei messo una firma per 5 punti in queste prime insomma 6 o 7 partite fate magari 6 no e invece ne siamo usciti con addirittura 8 punti quindi anche sopra le aspettative quindi io personalmente sono felice e bisogna migliorare su alcuni aspetti perché è chiaro che non si possa sempre giocare così secondo me possiamo migliorare secondo me anzi miglioreremo no anzi no miglioreremo non lo so non si dice secondo me possiamo migliorare quello lo dico Girardino non è uno stupido e lo sappiamo abbiamo secondo me una squadra tra l'altro che può mostrare il suo potenziale e c'è qualcuno che sicuramente si salverà dalla C cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo pieno ragazzi 8 punti e c'è qualcuno che forse no dai non succede